Non è lì che hanno vissuto, non è lì che sono morti, loro rimangono vicino a quello che hanno amato. Come ti chiami? Maggie. I cubi servono per parlare con Charlotte. Sai dove si trova? Al piano di sopra. Lei è diversa, è meccanica. L'infermiera fu accusata di aver provocato le fratture. Non voleva che la bambina fosse portata via, era ossessionata da lei. Non so come. Lei è ancora qui. Maggie! Mi chiami, mi chiami! Sì! ガh! Mi chiami, mi chiami! Imidio! Chi. E questo è tutto! Mi chiami, questo è tutto!